Ho fatto forse una dormanda che non dovevo fare? Non voglio farti star male, ok? Non è per questo motivo che siamo venuti qui, penso che tu te ne puoi rendere conto che siamo qui con il massimo rispetto per te e per la tua storia. Sei libero di dire tutto quello che vuoi? Se vuoi puoi dirmi sempre se ti è possibile, se ci sono delle domande che non ti devo fare, perché magari provocano in te ricordi dolorosi. E ho visto adesso che hai interagito con le lucine, le famose lucine di prima. Come hai visto, non ti provocano nessun danno, nessun problema. Puoi rifarle per me, per noi. Puoi riavvicinarti nuovamente alle lucine. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie veramente. Per me, se hai bisogno di aiuto. Se possiamo fare qualcosa per aiutarti, ci siamo qui per quello. Basta che tu lo chieda, e se hai il nostro potere farlo, ti daremo una mano. Adesso io ti lascio un po' di spazio per dire tutto quello che vuoi, io non parlo più da questo momento, parla tu. Grazie. 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 Grazie.